Eccoci tornati, prego la risposta. Allora, per quanto riguarda la formazione di Cosenza, noi stavamo cercando l'equilibrio in quel momento lì, perché volevamo, diciamo al di là delle vittorie che avevamo fatto tra Pordenone e Vicenza, noi cercavamo anche un atteggiamento diverso per prevenire le imbarcate e quindi ci sembrava in una partita dove l'avversario giocava con i 3-5-2 che i quinti arrivavano sempre a chiudere sul secondo palo e ovviamente quello è un rischio che quando giochi con una difesa a 4 contro una squadra che fa 3-5-2 dove i quinti arrivano sempre a chiudere, una mezzala si butta dentro, te sei sempre in inferiorità numerica e rischi di prendere il gol sempre sul secondo palo, infatti andò così. Quindi noi si disse, noi abbiamo costruito la squadra per il 4-2-3-1, dobbiamo proporre anche un qualcosa di diverso se c'è una partita magari da contenere, quindi quella partita lì noi abbiamo fatto altro, io non ho fatto altro che alzare Salsano a sinistra per dare un po' di equilibrio alla squadra e mantenere partipilo, quindi avere un esterno offensivo e uno un po' più difensivo che potesse fare, soprattutto dalla parte destra del Cosenza, arrivare a fare il quinto, la diagonale del quinto, perché magari Capone poteva avere dei problemi a farla, o furla magari a fare tre partite in Serie B, una dietro l'altra, quella era una partita infrasettimanale di martedì se non sbaglio, dove oltretutto Palumbo e Falletti arrivarono in macchina a Cosenza, per paura dell'aereo, poi dopo quella trasferta lì, sono sempre venuti in aereo, perché comunque un allenatore non è che si deve occupare solo, non si deve occupare solo degli schemi, deve dare anche delle regole, deve far capire che le cose vanno fatte in una certa maniera, perché se la società ci metti la possibilità di viaggiare con volo charter per facilitare la trasferta e stancarsi di meno, te puoi fare cinque ore e mezzo di macchina il giorno prima della partita e cinque ore e mezzo di macchina dopo la partita, quindi lì era anche una, diciamo una, chiamiamola una lettera di richiamo, comunque che ci stava, anche per una turnazione dei giocatori, perché fare tre partite in B non è come fare tre partite in Serie C, cambia abbiamo pagato un po' quella scoperta, e poi comunque dopo cinque minuti prendevi già due a zero, quindi non c'è, non si sa, e quella partita lì è la trasferta dove noi abbiamo fatto più tiri in porta, 29, quella partita lì, la partita dove abbiamo insieme prima a Cremona sono le due partite, 26 a Cremona e 29 a Cosenza, quindi la squadra diciamo che non già hai convinto tanto, la squadra non è che si è esperto, no ma sai a volte si deve fare delle cose che possono anche non convincere, perché no questa cosa di Falletti e Palumbo per esempio ci può stare, questi si sono stancati la prossima volta venite in macchina, mi metto fuori, ci può stare, questo diciamo un discorso, all'epoca dicesti anche che quella partita di Cosenza volevi coinvolgere anche altri giocatori, noi dovevamo anche capire su quanti effettivi potevamo mi ricordo che fece questa osservazione, perché poi succede, se no poi succede come è successo per Capricas, no? Cioè magari poi quando i giocatori ti servono, io ho sempre pensato che i giocatori non sono dei taxi, come errato con l'Inter, cioè non è che te li sali e li scendi quando ti pare a te, te devi capire il tuo gruppo, devi attingere alla rosa, perché lo sai che facendo 10 partite infrasettimanali qualcuno prima o poi si fa male e quelli che poi entrano devono essere pronti, devi ruotare, devi fare delle cose, davanti hanno giocato Pettinari e Mazzocchi, cioè alla fine non è che c'era stato tutti questi cambi, perché noi giochiamo con Pettinari e Mazzocchi, 5 titolari, 5-6, no, 5 titolari, il quinto era un titolare che era riposato con Vicenza, si cambiò 4 giocatori, l'anno scorso ne cambiavamo anche 10, io ti voglio dire 10, pensare che io sarò l'allenatore della Ternana io ruoterò sempre, perché è impossibile pensare di fare il campionato con 12-13 giocatori forse non si è capito, questa partita a noi non ci è andata giù in nessuna maniera ma sono scelte, sono scelte, però secondo me c'è una partita che al 5-2-0 c'è poco di scelte tattiche, va benissimo, però rimane il fatto, io ti posso garantire che la partita era alle 19, a noi ci sono arrivate le rose alle 18-20, no, alle 18-12, alle 18-14 ci stava la prima bestemmia sulla chat, intanto per farti capire quando abbiamo letto la formazione e già abbiamo capito tutto che aria tirava, dopodiché la partita l'abbiamo visto e c'era, noi quello che sosteniamo è che in quel momento invece la Ternana si era lanciata finalmente, dopo le prime tre complicate, il puntarello di Monza, l'abbiamo vinto, con la Parma, la Spal, perso immeritatamente a Cremona, perché vedi, puoi perdere le partite, ma ci stanno le partite in cui uno non dirà mai niente, perché le vediamo, dopodiché abbiamo vinto Pordenone, Vicenza, eravamo lanciatissimi, non si è capito questo maxi turno, perché ruotare due giocatori a partita non dice a nessuno, lì saltò all'occhio troppo. Allora, per amore di Dio, il bello del calcio è che ognuno giustamente ha la sua opinione e la vedono in una certa maniera, quindi non è che vi devo convincere, vi devo spiegare quali sono state le scelte che ho fatto quella partita lì. Io credo che comunque noi abbiamo anche un'altra statistica importante, che si è riportituta spessa durante l'anno, che alla terza partita consecutiva qualcuno si è sempre fatto male. Ma quello sì. Quindi io credevo che questa squadra potesse, ma a parte poi, ripeto, un conto è risultato, un conto è prestazione, i numeri di Cosenza sono inconfutabili, per i nostri dati di match analisi della partita, cioè è la partita migliore che abbiamo fatto in trasferta Cosenza. Poi, ovviamente noi dobbiamo anche mettere in preventivo che avrebbe potuto farsi male Falletti, infatti si è fatto male, come potevamo fare a meno anche di Palumbo in qualche partita. Io ho il dovere di capire, se dovesse succedere questo, come facciamo? Non è che lo fai durante la settimana, durante l'anno, perché noi per esempio abbiamo un giocatore che durante la settimana è fortissimo, uno dei giocatori che io ho più forti in assoluto che ho mai visto, però poi la domenica è un'altra cosa. Uno deve cercare di attingere a tutte le risorse. Gliel'abbiamo detto su Moe. E se non lo fai in una partita come quella di Cosenza, con chi lo fai? Senti, mister, invece sulle conferenze a stampa, che dopo Gianni c'è una domanda. Aggiungo, quello che secondo me non mi è piaciuto è stato l'autolisionismo del post-partito di Cosenza che ci ha portato a perdere in casa anche con il Como. Infatti noi abbiamo sempre detto che secondo noi quella partita con il Como è figlia dell'altra. Nonostante numericamente fu un'altra partita dove probabilmente... La prima mezz'ora potevamo fare il gol. La Roma dopo cinque minuti se fa gol sul rigore, probabilmente la partita prende un'altra piega. Però, ecco, si può sbagliare. Io sbaglio, ma ho sbagliato tante volte e magari me ne siete accorti perché invece il risultato ci ha dato ragione. Cioè, secondo me l'ho sbagliato molte più volte. Al di là che poi un'altra cosa che vi dico è che fino a che c'erano le tre sostituzioni, indovinare l'undici titolare era quasi doveroso perché rischia. Ma con le cinque sostituzioni puoi cambiare la partita in ogni momento. Quindi non ha più quella valenza, quell'importanza. È chiaro che se metti un terzino in porta e il centravanti a fare la dimensione centrale è un conto. Però con le cinque sostituzioni oggi puoi rimediare a eventuali cose che hai valutato male. Io sono due le cose che non... No, però sulla conferenza stampa vorrei che poi dopo... La conferenza stampa secondo me c'era bisogno di tenere la squadra lontana dai riflettori e di accentrare tutto su di me perché li vedevo un po' in difficoltà. Vi parlo dall'inizio, perché poi dopo facciamo stasera. All'inizio lo sapete come è andata, no? Quindi in quel momento lì ci sono degli allenatori che... Ci sono degli allenatori che non è mai colpa loro. Invece in quel caso hai attirato un po' l'attenzione addosso a te. No, ma infatti era saltata agli occhi perché l'anno scorso... Ti sei sentito un po' solo in questo senso durante la facoltà. No, era una delle domande che ti volevo fare. La facciamo anche quella. Perché l'anno scorso qui dovevi detto le cose che ti erano piaciute di Derni che i giornalisti, la stampa, i media erano i primi tifosi. Quindi vedere quelle... Adesso ce l'hai spiegato. E come ha detto giustamente lui... Ma risuccederà, eh? Vabbè, però almeno siamo preparati. Ma io parlavo della società. Almeno siamo preparati. No, aggiungo a quello che ti ha già chiesto lui. Ringaro la dose. A noi spesso e volentieri sei sembrato un uomo solo. Completamente abbastanza. Ha cominciato quando ti dicesti la prima volta mi sono girato, non ci stava nessuno dietro. Dopo si prestano a mille interpretazioni queste due affermazioni. Ma anche le volte... Quando hai criticato un arbitraggio, ti hanno pure multato. Cioè, è una serie di volte che abbiamo visto sempre e solo te mettere la faccia. E quando ci sono anche altre figure, no? In società che potrebbero parlare ogni tanto, invece silenzio, dicono. Ma guarda, io per fortuna non sono uno che solo sta male. Per carità. Quindi, e soprattutto la mia vita mi ha sempre portato a prendermi le responsabilità, a metterci la faccia in prima persona. probabilmente sono stato scelto proprio per quello, no? Quindi, oggi io non è che mi lamento, dico, mi sento solo. Io sono un po' lupo solitario, anche nella vita. A me, quante volte mi avete visto un corso tacito a fare passeggiate? È difficile. E non ti hanno fermato mai. È difficile. Io credo che in effetti questo mestiere, come diceva Mazzone, Carletto Mazzone mi diceva se a uno gli vuole il gol a una disgrazia ha quella di fare l'allenatore, perché è il mestiere più difficile che c'è. A Coverciano appena entri a far corso dici, guardi, io vorrei fare l'allenatore, ti dicono sei un uomo solo al comando, sei il lavoratore più precario, perché se ti mandano via non è che scendano in campo sindacati o non te ne sai qualcosa. Nel senso, sei un uomo solo al comando, te la senti, se no fai un'altra cosa. Io me la sono sempre sentita, perché per me non è mai stata una consolazione per dire ma i giocatori sono questi. Oltretutto vi a Terni ho sempre avuto squadre squadre fatte cioè ho sempre avuto una società che ha cercato e ha pensato di fare le cose nel miglior modo possibile, ma io nella mia carriera l'anno prossimo sarà il decimo anno, io ho iniziato nel 2012-2013, l'anno prossimo sarà il mio decimo campionato, diciamo, te lo sai che l'allenatore è quello che paga per tutti. Anche quando te vinci per dire oggi me la godo ho vinto l'indomani ti cominciano a chiamare i procuratori di quelli che non hanno giocato le società di proprietà dei giocatori in prestito che non hanno giocato dici domani lunedì me la godo no perché poi comunque l'allenatore è sempre non sta anche il telefono sì però poi alla fine devi richiamare cioè è una vita che non cioè questo mestiere ti ti sciuccia il fegato sotto sotto tutti i punti di vista perché poi ha a che fare ai tifosi ai giornalisti ai giocatori ai procuratori ai giocatori ai presidente al direttore sportivo insomma diciamo che sei quello più esposto di tutti e dove te praticamente quando vinci hai fatto il tuo quando perdi è colpa tua non è che vanno a cercare un altro responsabile però a me è questa cosa qua sarò masochista però mi piace essere un uomo solo al comando è un qualcosa che mi fa mi dà adrenalina cioè non però sei troppo io se vuoi un consiglio perché poi ti conosco bene è forse troppo amore troppo attaccamento a questa squadra a questa città che tu hai sei troppo protettivo da questo punto di vista cioè nel senso è giusto quello che dici te concordo in pieno però è anche vero che in una struttura societaria c'è uno staff c'è un gruppo che lavora e l'allenatore non può fare sempre solo da scudo a tutto il resto ti fa onore quello che hai detto però c'è bisogno di una figura che ti assista che ti supporti che ti stia a fianco io l'ho sempre fatto anche da calciatore da scudo lo so però perché a Livorno qualsiasi cosa succedeva però poi lo sai quindi non è che cioè quando te sei investito di questo ruolo poi non ne puoi più fare a meno capito no no lo so quindi a me oggi non mi rappresenta cioè io preferisco tra virgolette essere solo e non avere un aiuto piuttosto che magari dico vabbè se non mi potete aiutare o mi aiutate però cercate di non rompere neanche le scatole ecco diciamo almeno di non pagassino grossomodo è quello il mio pensiero allora mi chiamano la pubblicità pausa e poi torniamo devi sottoporti a risonanza magnetica affidati allo studio di radiologia Braconi di Terni da noi trovi la risonanza magnetica aperta di ultima generazione unica nel centro Italia le bassissime emissioni dei nostri macchinari sono ideali in campo pediatrico e per donne in età fertile fai qualche chilometro in più per molte radiazioni in meno prenotazione in 24 ore consegna dei referti immediata studio di radiologia Braconi a Terni in via Paginotti 8 zona Piazza Tacito nelle vicinanze della stazione ferroviaria a Terni in via Paginotti 8 stia DSL collega aziende e private ad internet megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio assistenza efficace e diretta prezzi contenuti sopra luoghi gratuiti dei tecnici entra in contatto con il mondo stia DSL telefono 0744 403 403 403 bene ultima parte di trasmissione veloci perché ce ne avremmo ancora tanti di fare le domande perché tu hai fatto tutto io al mismo ruby major mi faccio parecchie durante la settimana ma questa però ci tengo a fartela è un po' cattiva nel senso le due cose che non ho capito di questa stagione in parte anche della scorsa uno i leziosismi di questa squadra cioè questa squadra che ha a volte questo atteggiamento che perdonami se te lo dico ma dà l'impressione che si batte da sola questi tocchetti questa voglia di stupire questo tenere palla alcuni giocatori che lo sai meglio di me tengono la palla 10 volte si piacciono si specchiano quando siamo belli quando siamo forti secondo me in serie B non paga quindi giusto su questo ti chiedo sarà il caso di anche dargli qualche bastonata metaforicamente parlando perché cioè io vedo certe partite di serie B in cui la ternana entra in campo come vuol dire oggi entriamo a porta palla al piede e se non facciamo la rabbona piuttosto quel tacchetto non si può fare poi lo sai i giocatori che hanno stindole e poi la seconda cosa che ti chiedo che quella veramente non l'ho capita è dopo una serie di partite con il 3-5-2 stavamo andando molto bene perché in casa con il Lecce ti sei rimesso 4-2-3-1 io ero sicuro che avresti continuato con il 3-5-2 che dopo hai fatto con la partita con il Frosinone invece lì mi dicesti proprio in sala stampa che ti hai rimesso con il Lecce 4-2-3-1 per andare proprio a cercare 4-3-1-2 4-3-1-2 adesso non me lo ricordo lo vedi perché non mi faccio fare le domande gliel'hai già risposto tu la rifai però questa cosa la leziosità io con tutto il rispetto per gli attaccanti del Lecce che voglio dire uno ha fatto il capocampagnere uno è arrivato secondo però secondo me andare con 5 difensori contro 3 attaccanti una partita in casa che te devi cercare di vincere se volevi coltivare un certo tipo di 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 sogno secondo me erano troppi e lo dico non da un presuntuoso cioè comunque noi a 4 avevamo un uomo in più dietro poi siccome i centrocampisti del Lecce già nella partita d'andata ci hanno messo in difficoltà perché hanno palleggio e inserimento e sono forti e noi all'andata facevamo fatica ad andare a prendere il regista del Lecce perché se voi prendete la partita di Ascoli Buchel sul quale noi avevamo preparato a turno un lavoro di Donna Rumma e di di Pettinari magari te lo fanno 7-8 minuti i primi 7-8 minuti poi dopo non te lo fanno più quindi poi parliamoci alla partita dell'ambicca al portiere dopo 20 minuti di che parliamo dai l'ho detto io non te l'ho fatto di te nel senso nel senso noi ma io sono convinto che che sia così che sia giusto così cioè è giusto avere accortezza però te devi vincere e loro dovranno vincere quindi noi si poteva anche sfruttare eventuali ripartenze io ho degli amici a Lecce che avevano visto l'alleamento del Lecce noi di mattina avevano preparato la partita sul 3-5-2 io ho voluto anche scombussolarli un po' piani ovviamente se mi dicono preparato la partita sul 3-5-2 le uscite diagonali quello e l'altro io se posso rompere le scatole mi metto a rompere le scatole la situazione è stata quella sul Frosinone è una partita che va interpretata la partita col Frosinone no io dicevo il discorso della leziosità no io dicevo tatticamente perché col Frosinone ti hai detto col Frosinone dopo ti sei rimessi però quel 3-5-2 ci ha abbassato ci ha fatto prendere il 3-3 con il centrale difensivo a tre mesi dal portiere nostro che si è stoppato la palla si è girato nemmeno Ibrahimovic ci ha fatto prendere un calcio di rigore anche se al 94esimo cioè il 3-5-2 è comunque un modulo che ti abbassa tantissimo quindi se devi andare ovviamente a fare una partita di ripartenze con certe caratteristiche è un conto o per contrapporti all'avversario con lo stesso modulo è un conto ma se te devi mettere poi io sempre anche calcisticamente ho sempre avuto un'idea che quando c'è troppi difensori per marcare pochi attaccanti marchi te marco io alla fine e marca nessuno quando invece ti ha uno e gli dici marca Gianni Giardineri o marca Gianluigi Manini o marca Enrico è diverso quindi per me anche se ripeto tanto di cappello ai tre attaccanti del Lecce però secondo me in cinque contro sulla leziosità e non ci sta rispondendo sulla leziosità è ovvio che noi abbiamo dei calciatori che ovviamente devono migliorare sotto tanti punti di vista devono crescere tatticamente devono sapere stare in campo la leziosità è vero però è anche quel qualcosa in più che a volte ti ha portato a fare risultato perché io preferisco sempre uno che tocca una volta in più la palla di quelli che la danno via come se fosse una bomba a mano che ti sta esplodendo da voi però magari gli ultimi minuti col Frosinone se ci fossimo buttati tantino per terra un po' di perdite tempo e soprattutto sul calcio d'angolo la palla invece di tenerla in aria la scoppi non essendo una squadra giovane perché non è una squadra giovane la Dernana uno si aspetterebbe un po' quel pizzico di malizia dell'esperienza noi sono tutte quelle situazioni che dobbiamo assolutamente migliorare perché ci sono costate di dei punti basta ferma qui la risposta se no qui non ci basta nei minuti non voglio tornare sulla lettera hai fatto una conferenza stampa sta sul sito nostro sul canale nostro per cui chi vuole se la riguarda io però alcune cose che sono scritte in questa lettera le voglio analizzare che si è passati da la squadra si rinforza con 4 under via a si sostituiscono 4 over in più si sostituiscono anche gli under da quello che ho capito almeno quelli che non sono andati bene almeno questa domanda fa moglieva via no non la vorrei non ti interessa sì sì non ti interessa io capisco nessuno può mettere il baby in un angolo però insomma stai esagerando allora dicevo chiaramente oggi hai detto che hai fatto dei nomi dei suggerimenti però proprio perché hai firmato una lettera di intenti voglio dire vorrai mettere bocca una lettera di condivisione quello che ti pare guarda ti sto evitando ogni tipo di imbarazzo commentare lascia stare però io voglio sapere questi giocatori chi li sceglie chi li piglia perché noi insomma questa trasmissione ha giocato sempre a carte scoperte noi del nostro la lettera l'ha scritta il presidente anche se tra virgolette poi ce l'ha scritto io sottoscritto era pronta per la firma quindi se il presidente ha manifestato questa diciamo ma giustamente perché poi alla fine chi lei fa la squadra di una squadra di calcio non mi dare le risposte da zero a zero voglio sapere se metto bocca pesantemente sui giocatori metterò bocca se me lo chiederanno ecco quindi tu la scatola chiusa chi arriva arriva io devo anche vedere noi abbiamo il nostro presidente che ha fatto delle dichiarazioni no? molto ambiziose quindi io sono convinto che ciò che verrà fatto sarà coerente con quelle che sono le parole che sono state spese certo e questa lettera investe ognuno di noi nel suo ruolo e siamo tutti sotto osservazione sì ma tu capisci che se il presidente sostiene come ha ripetuto più e più volte questa squadra già così dove arrivavo prima o seconda col calcio c'è qualche problema insomma voglio dire bisognerà se poi dopo la vedo nera previsione pessima arrivano otto pippe va bene detto un po' alla francese così e qualcuno gli racconta che è una squadra fortissima dopo come si mette? sei tu quello che stai in una posizione più scomoda? ma come sempre ho capito perché non è che se li scegliessi io calciatori non starei in una posizione scomoda se poi non arrivassero risultati probabilmente sai anche cose che noi non sappiamo però non ci avresti niente da rimproverare lo scelti io è colpa mia mi sento io semplicemente dirò al presidente quello che gli ho detto quest'anno gli dirò secondo me non siamo una squadra che può arrivare prima o seconda in classifica secondo me non è tanto il presidente che magari può fare delle previsioni ottimistiche perché magari investe anche tanti soldi secondo me è magari è l'uomo di calcio allora io faccio forse si capisce meglio il segnale io al presidente gli dirò la verità fino alla fine fino alla morte mi auguro che tutti facciano uguale cioè io gli dirò sempre quello che penso gli dirò sempre il mio giudizio perché non gli dirò sì a prescindere perché è il presidente io sono fatto così io gli dirò sempre secondo me il presidente la mia opinione è questa poi ovviamente i soldi sono suoi faccia cosa gli pare questo però però non rinuncerò mai a dirgli quello che penso però specifica a lui poi il pubblico diciamo sei più aziendalista centriamo un po' nel mercato in che senso nel senso tu non ti sei mai lamentato la cosa che ti è stata messa a disposizione io non mi sono mai lamentato perché la mia carriera se voi andate a vedere di allenatore gli ultimi due anni sono le squadre più forti che ho allenato come materiale umano a disposizione io vengo dalla gavetta sono stato in delle società dove poi purtroppo sono fallite dove abbiamo preso gli stipendi te la metto in un'altra maniera non ti devi lamentare però per esempio il mercato di gennaio dire qua va bene così non si tocca arrivato solo un bordo in pubblico io non ho mai detto magari potete serve un difensore giuntlocampista un esterno che ne sono dice quello che arriva arriva bene così io credo che quando sono venuto qua e mi è stato detto non è costume di questa società stravolgere le squadre a gennaio io su quello sono d'accordo perché i soldi vanno spesi a giugno le squadre spesi a giugno perché a gennaio è difficile allora quelli bravi non te li danno se li tengono giustamente se devo andare a prendere un giocatore mettiamo quest'anno 31 di gennaio finisce il mercato il 2 o è il giocatore che io ho avuto tipo Bogdan quindi so non c'è bisogno di conoscere però alcune squadre a gennaio si sono rinforzate però hanno fatto meglio il Pisa ha preso tre giocatori fortissimi Puskas Torregrossa Torregrossa e Benalì e Benalì il centro campista il primo classifica come è arrivato beh diciamo che però la presi perché riteneva di non poter con quella squadra continuare in quel modo ma io infatti ti dico poi è andato fuori io sono al 90% d'accordo allora io sono d'accordissimo al 100% che le squadre si fanno a giugno qui penso siamo tutti in giugno però se serve poi secondo me ci sono delle eccezioni se ti dici guarda io ho capito che quest'anno non è che andremo tanto lontano al di là di quelle che possono essere le dichiarazioni magari ho capito che quest'anno probabilmente un certo discorso è difficile raggiungerlo è meglio se magari quei soldi li metto nell'anno successivo infatti questo è quello che è stato detto probabilmente è una valutazione è una valutazione corretta io non sono in assoluto d'accordo che a gennaio non si deve far nulla io ho detto che secondo me per continuare ad andare avanti nel call 4231 si doveva fare qualcosa se no si doveva cambiare assolutamente quindi non è stato possibile si è preso solo Bogdan perché è successo nelle serie di situazioni e si è cambiato cioè è semplice hai cambiato no dicevo a proposito di quella partita famosa col Frosinone nella quale tu avresti detto che la squadra più di quello non poteva fare ma io mi sento di poterlo non è che ti voglio fare un assist non è mia abitudine però io da uomo di insomma se mai sei col calcio purtroppo da antie anni mi pare di poter dire al di là di varie interpretazioni che ho sentito che era un po' un modo per dire anche per incoraggiare questa squadra no per lavorarli sullo stomaco ecco ma è la prima volta che un allenatore lo dice ma io allora se voi se voi vi ricordate è stato Lucrelli il primo a dire ma no quella mi sembrava una scusa mi sembra una scusa non è un assist però vorrei farti spiegare io l'anno scorso vincevo 6 a 0 vincevo 5 a 0 veniva la stampa e dicevo i primi 5 minuti mi hanno fatto schifo oppure il campionato ancora aveva voglia perché sapevo perché sapevo che l'anno scorso il pericolo poteva essere quello di rilassarsi quest'anno io quando a Frosinone ho detto io a Frosinone avevo ancora dentro di me coltivavo il sogno la speranza di poter riprendere le posizioni di vertice però quando te per 70 minuti rimani in superiorità numerica e gli avversari in 10 ti dominano ti dominano ti pressano ti mettano e forse vanno più vicini loro anche se c'era un rigore su Pettinari ma non dato non fischiato ma vanno più vicini loro a vincere la partita che te e pensi che quella squadra sia forte perché ci portiamo dietro un retaggio dei risultati in precampionato e dell'anno passato io quel giorno lì è ovvio che io l'ho detto per andare a lavorare sullo stomaco dei giocatori cioè io dovevo dovevo pungolare i giocatori li dovevo prendere sull'orgoglio perché dicessero dentro di sé grandissima testa di ora ti facciamo vedere noi di cosa siamo capaci io in quel momento lì l'ho detto con quella finalità lì poi probabilmente dopo qualche mese mi sono accorto che in effetti non eravamo secondo me al di là dei sogni coltivare i sogni o trasmettere mentalità che io credo che qui da averla portata perché Bandecchia è qui da 5 anni ma diciamo le cose funzionano un po' meglio da quando siamo arrivati io e il mio staff no? non è che qui si deve offendere nessuno sono risultati e parlano chiaro ti stuzzichiamo un attimo no io gli vorrei fare una domanda sul discorso del mercato ecco perché oggi hai detto 4-3-2-1 sarà il modulo con cui ripartirò la prossima stagione 4-3-2-1 4-3-2-1 4-3-2-1 e hai fatto tre nomi il famoso valbero di Natale hai detto partipilo falletti e palumbo quindi questi mi sembrano tre punti fermi il quarto punto fermo potrebbe essere penso gli annarilli non lo so dimmi tu e poi ti volevo dire dove pensi a centrocampo che bisogna mettere qualcosa in più cioè in termini di struttura fisica in termini di centimetri di chili hai bisogno perché noi questa cosa in trasmissione abbiamo detto tante volte ci abbiamo detto forse al centrocampo della Ternana manca un po' ma io con 4-3-2-1 con 4-3-2-1 anche Pettinari può giocare in tutte e tre le posizioni quindi ipotizzando i trequartisti Pettinari che può fare anche la punta centrale ma può fare anche uno dei due esterni dei due trequartisti Falletti e partipilo a realtà ci mancherebbe un numericamente un giocatore può decidere se prendere un'altra punta centrale oppure no io cercavo un qualcosa per far giocare tutti insieme i nostri giocatori senti questa cosa di coda è una sciocchezza che è uscita oppure magari c'è casca ma io credo che se mai fosse non lo sta negando no no ma è normale che lui prima ha detto Gianna Rilli no anche lì ovviamente noi non è che ora potremmo fare abbiamo bisogno di mettere un altro portiere che se la giochi con Gianna Rilli quello è sicuro perché quest'anno abbiamo visto magari che è difficile da una parte come il fatto di averlo battezzato l'anno scorso e avergli detto per me te sei forte mi sarebbe sempre piaciuto averti non ti ho mai avuto quest'anno ti sciò per me sei il portiere titolare ti creo le condizioni per poter lavorare sereno per lavorare sereno e diciamo che il rendimento di Gianna Rilli quest'anno è andato al di sopra però poi ora noi abbiamo bisogno di migliorarci sotto tanti punti di vista quindi probabilmente ci vuole anche un portiere che parli di più come succede nella scelta degli altri ruoli anche nel ruolo del portiere probabilmente abbiamo bisogno di affiancargli un portiere che parli di più che guidi di più il reparto che si arrabbi con i suoi compagni quando si prende gol perché come dite voi si mette tipo il terzo gol di Ascoli per me un portiere deve uscire dalla porta e prende a cazzotti Celli con tutto il bene che voglia Celli quello lo fai tu all'inizio però quando te hai una quindi sicuramente io credo che lì metteremo quantomeno un portiere di pari livello e poi ovviamente come è giusto se la giocheranno creando una competizione però su Coda non c'è dettore vabbè ma Coda io l'avevo chiesto l'anno scorso quindi non è che poi però credo che non saranno che ci saranno di squadre io so di squadre che stanno trattando i giocatori di Serie A ma che hanno fatto i titolari il Modena sta trattando i giocatori di Serie A che hanno fatto 30 partite in Serie A e invece in difesa visto che ti piace sempre giocare molto alto con la difesa due centrali veloci due centrali veloci di difesa ma uno l'abbiamo uno l'abbiamo e va bene però stare con la difesa alta so che ti piace molto hai visto il Milan e tu mori di Akite anche Celli comunque può fare stare con la difesa allora stare con la difesa alta comporta una grande pressione dei nostri attaccanti io l'anno prossimo noi non ci potremmo permettere tanti giocatori che non partecipano alla fase difensiva se no torna Pasqua di Domenica come quindi lavoriamo sul centro campo un po' più tosto no no devono essere i primi devono essere gli attaccanti cioè l'anno prossimo noi non possiamo io non posso guardare in faccia a nessuno io voglio difendermi in 11 non voglio difendermi in 15 però anche il centro campo serve qualche perché scusate se noi andiamo a prendere i difensori che abbiamo in rosa questa allora diciamo presi uno per uno la squadra non ce l'è uno fia pensate alla testa il tono la squadra va migliorata Marino per esempio te lo fa pensi che lo farà un altro anno defendi sicuramente defendi sarà nella rosa quello è poco è poco ma sicuro ma anche per un discorso di gruppo di esperienza assolutamente di il senso di appartenenza ormai lui è ternano a questa squadra più creiamo il senso di appartenenza dentro questa squadra più è facile raggiungere comunque dei terzini destri senza ombra di dubbio che crossa meglio questo non ci piove però purtroppo c'è anche c'è anche c'ha la sua età ovviamente anche lui non è spendibile per 40 partite e magari in certe partite si può servire un giocatore che crossa un po' meno ma che mantiene un po' di più la linea difensiva dice che forse siamo in chiusura sei un po' ti sta stranendo allora io ti prego prima di chiudere dovresti prendere quella cosa che hai in testa quella verde prendila prendi ci tengo a farla vedere quella verde che è qua che Manini ha fatto tutta la trasmissione con una foglia sulla capoccia ecco questa è qui ecco è una masciata al gel vedi non addirittura è ingollata gli sei ingollata una foglia questo è questo è porta bene come avete scelto cascia mister quest'anno sono così abbiamo scelto cascia cerchiamo una mano dai santi la società aveva la necessità di restare in zona in zona per tutta una serie di motivi per una maggiore partecipazione anche ai tifosi è importante che il primo luglio ci sia almeno l'80% della squadra però iniziando anche il mercato il primo luglio magari forse proprio il primo luglio a meno che non prendi un vincuato i contratti comunque non li puoi depositare però nella letterina è vero che c'è delle eroghe c'è scritto che si cambia poco per cui non è che arrivano 15 giocatori quest'anno no quest'anno no diciamo rispetto già magari a quelle che erano le idee di un mese fa oggi si parla magari del doppio di giocatori quindi non c'è più distinzione 4 e 4 diciamo più o meno può essere un numero quello tanti entrano tanti escono ci sono dei giocatori che devono uscire fisiologicamente perché c'è qualcuno magari a fine contratto c'è i prestiti che rientrano c'è dei giocatori magari che io ho impiegato meno perché abbiamo cambiato modulo quindi sicuramente avverranno delle cose fisiologiche io ovviamente non devono essere più delle alternative ai nostri ma devono essere bisogna cercare di fare diventare dei potenziali titolari in modo che in modo che si giocheranno in maniera sana la maglia ogni domenica e sappiamo che eventualmente parte uno parte l'altro l'alternativa è un'alternativa di livello poi non avere 37 giocatori ti faccio tre nomi poi tu mi dici se ti piacciono o no uno lo so che ti piace Folorunzo mi pare che ti è sempre piaciuto abbastanza Cortinovis se ti piace come vice Falletti che ti può giocare anche Felix Correia che piace al direttore 3x2 ci dice che ti piace Felix Correia che però non è male e poi se ti piace forse Cambiaghi che stava a Pordenone uno di questi quattro che prenderesti allora mi piacciono tutti e quattro ma nei nostri discorsi sia di inizio di campionato di serie B che probabilmente anche in prospettiva i primi due no quindi né Cortinovis e né Folorunzo non ne abbiamo mai parlato sono ottimi giocatori ma non ne abbiamo mai parlato nelle nostre chiacchierate cambiare invece il ragazzo sarebbe bravo è bravo Felix Correia lo conosco molto bene ti piace? sì e lo stesso discorso Cambiaghi penso Cambiaghi abbiamo fatto un campionato importante però non è che siamo gli unici che si vede i giocatori bravi qui mi ammazza però potremmo andare avanti per ore facciamo una parte due di questa puntata magari ti veniamo a trovare a casa che ne sai ci mettiamo d'accordo sempre ha detto sta mai ci controlla ci guarda abbiamo strasforato i tempi Cristiano grazie grazie a voi grazie di essere tornato sempre così senza filtro qui lo sai tipo bar sport come giocate facile perché anch'io no ma infatti è un piacere fare queste chiacchierate è un piacere fare queste chiacchierate grazie Gianni Manini grazie Gianni Giardini Gianni Manini Gigi Manini facciamo più dopo cena Gigi Manini guarda ma questo con le foglie sulla capoccia ma come si fa a fare la trasmissione sembra che ha preso la laurea con le foglie dall'oro grazie a voi ma lo sui capelli diciamo me lo posso anche per me meglio tu che ce l'hai certo tu resta zitto che tristezza però ci vogliamo bene non sembra grazie grazie ancora grazie a voi alla prossima ciao